Una visita in città non istituzionale ma elettoralistica. Il sindaco Lucio Grecon è certo riferendosi al tour cittadino dei siti archeologici che l'assessore regionale Francesco Scarpinato ha effettuato ieri in città a cui non ha fatto seguito nessun incontro ufficiale invece con l'amministrazione comunale. Scarpinato ha avuto un confronto solo con il gruppo locale di Fratelli d'Italia oltre che con il direttore del parco archeologico Luigi Gattuso e con il sovrintendente Daniela Vullo. Uno schiaffo istituzionale che il primo cittadino non ha gradito per nulla e che stigmatizza prendendo a prestito addirittura il testo dell'articolo 54 della Costituzione. Lo recita la stessa Costituzione allorquanto chiede a chi ricopre incarichi pubblici di agire con disciplina e onore. È un fatto grave che l'assessore regionale dimenticando di essere l'assessore di tutti i siciliani viene qui per fare campagna elettorale non coinvolgendo l'amministrazione comunale che era sicuramente l'unica titolata a poter avere un momento di confronto come già abbiamo avuto nel recente passato su quella che è la situazione complessivamente di tutti i reperti archeologici, di tutti i siti archeologici e di quella che è la situazione del turismo archeologico nella nostra città. È davvero un fatto grave e dispiace tantissimo che ci sia stata questa caduta di stile da parte dell'assessore regionale che ho definito come davvero fatto che accadeva in quei governi o in quelle nazioni che avevano regimi illiberali. La scelta del luogo per ricambiare lo sgarbo dell'esponente del governo Schifani non è per nulla casuale. Il sindaco infatti si fa trovare di fronte al cantiere del museo archeologico chiuso da anni così come tanti altri siti cittadini. La chiusura delle mura timoleontè senza personale che possa garantire la regolare apertura come avviene in tutti i siti sia per quello che riguarda i ritardi che si registrano nei lavori qui del museo sia per quello che riguarda i ritardi dell'apertura e dell'inaugurazione del museo della nave. Mi si dice che un problema della gabbina dell'Enel sta comportando anche lì dei ritardi per aprire e inaugurare il museo della nave. Quando non si vogliono affrontare in maniera seria e costruttiva i problemi probabilmente si cerca di distrarre l'opinione pubblica facendo campagna elettorale con gli amici di Fratelli d'Italia di Gela piuttosto che ripeto affrontare in maniera seria e con competenze e con professionalità tutti questi problemi che l'amministrazione ripeto ha già posto diverso tempo fa. Il poco feeling tra il sindaco e alcuni membri del governo regionale non è certo una novità. In questi mesi infatti i meloniani hanno portato in città il ministro Andrea Bodi e l'altro assessore regionale in quota Fratelli d'Italia Elena Pagana. In nessun caso ci sono stati tavoli istituzionali con l'amministrazione comunale. Non temo assolutamente questi comportamenti che si qualificano da soli, la città comprende perfettamente questi comportamenti, non li apprezza, sono assolutamente da evitare e quindi voglio solo dire a queste persone che la politica non può mai dimenticare che deve servire a servire e deve pensare ai problemi della collettività non a una campagna elettorale che è già partita in grande anticipo. Sembrano ormai superati i tempi in cui il sindaco supportava Renato Schifani nella sua corsa a Palazzo d'Orlean. Da allora gli sgarbi istituzionali nei confronti del primo cittadino sono stati tanti ma Greco non sembra pentito delle sue scelte. Ho fatto convintamente quella scelta, non mi pento assolutamente e quindi io vado avanti per la mia strada convinto come sono di operare bene e soprattutto di operare per l'interesse e a difesa e a tutela del mio territorio.